Nel giugno 1944 cominciò la fase decisiva dell'avanzata americana nel Pacifico verso il Giappone. L'invasione delle isole Marianne fu un passaggio cruciale verso la vittoria. Come in ogni altra fase della guerra del Pacifico, le portaerei si rivelarono fondamentali. Grazie a tutti. Ho partecipato a diverse missioni aerei sulle Marianne e ho combattuto nella prima battaglia del Mar delle Filippine. Quella fu la più dura. È stato un momento cruciale della guerra ed è stato un onore parteciparvi. Tanti abbattimenti, tantissimi cambiamenti nei rapporti di forza tra noi e il nemico. Le Marianne, una catena di 15 isole che si estende da Faraglion de Pajaros nel nord fino a Guam nel sud. Poco più di 300 miglia a nord si trovavano le basi giapponesi di Iwo Jima, 250 miglia a sud, quelle delle isole Caroline. Oltre a Guam, anche sulle vicine Saipan e Tinian erano operative piste d'atterraggio d'emergenza. Queste tre isole erano gli obiettivi primari. Le Marshall, mille miglia ad est delle Marianne, conquistate dagli americani tra febbraio e marzo, erano i porti ideali per lanciare l'attacco. Oltre ai mezzi da sbarco, 535, tra navi da guerra e vascelli ausiliari, avrebbero preso parte all'operazione Forager, 127.511 soldati coinvolti. Il giorno fissato era il 15 giugno. L'ammiraglio Chester A. Nimitz manteneva il comando generale nel Pacifico, ma l'operazione Forager sarebbe stata condotta sul campo dall'ammiraglio Raymond A. Spruens, comandante della quinta flotta. Lo avrebbe affiancato il viceammiraglio Mark A. Mitchell, comandante delle portaerei della Task Force 58, che avrebbe assicurato copertura alla forza di spedizione congiunta di marina ed esercito durante l'invasione. La Task Force 58 era composta da quattro gruppi autonomi di portaerei, chiamati Task Group 58 1, 2, 3 e 4, protetti da incrociatori e caccia torpediniere di scorta. In tutto, le 14 portaerei avrebbero disposto di 896 tra bombardieri e caccia. L'8 giugno, la forza di spedizione congiunta si era radunata nelle isole Marshall. Le truppe dirette a Saipan salparono il 9 giugno, quelle a Guam il 12. Una volta stilati i piani definitivi, gli americani iniziarono le ricognizioni con aerei decollati dalle basi in Nuova Guinea, Marshall, isole dell'ammiragliato e Salomone. Il 18 aprile, mentre i Liberators scattavano aeree di Saipan e Guam, i bombardieri B-24 di scorta attaccarono obiettivi militari. Dal 26 aprile fino all'immediata vigilia dell'operazione, aerei in missione di ricognizione decollarono con regolarità dalle Marshall. Il bombardiere B-24 Liberator è passato alla storia insieme al B-17, la fortezza volante, per i bombardamenti sulla Germania. Nello scenario del Pacifico fu privato degli armamenti e la capacità di carico fu sacrificata alla maggior capienza dei serbatoi per farne un aereo da fotoricognizione con un raggio di 2000 miglia, superiore a qualsiasi velivolo operativo nell'area. in Italia. Raggiungeva una velocità di 460 chilometri orari e una quota massima di 30.000 piedi. Era ideale per decollare dai territori appena strappati ai giapponesi, come le isole Salomone e le Marianne. Poteva coprire enormi distanze. Fu preziosissimo per la quinta flotta dell'ammiraglio Spruens. Già da tempo i giapponesi si aspettavano un attacco sul loro perimetro difensivo nel Pacifico occidentale, che si estendeva per 2000 miglia a nord-ovest della Nuova Guinea. Il comandante in capo della flotta combinata giapponese, ammiraglio Soemu Toyoda, optò per una rischiosa strategia difensiva. L'operazione A-Go mirava ad attirare la flotta americana in un'unica battaglia decisiva, in cui i giapponesi avrebbero impiegato gli aerei decollati dalle vicine basi a terra. Il 3 maggio scelse le isole di Palau e le più occidentali delle Caroline, Yap e Walei, per la battaglia decisiva. Toyoda voleva attirare gli americani con una flotta civetta distaccata dalla prima flotta mobile agli ordini del viceammiraglio Gisaburo Otsawa, dislocata nei pressi di Taui Taui, nell'arcipelago delle Sulu. Una volta ricevuto l'ordine, Otsawa avrebbe immediatamente puntato ad est delle Filippine, assicurandosi di non essere individuato. Toyoda prevedeva un completo successo. Il 16 maggio, la flotta di Otsawa converse su Taui Taui, la più meridionale delle Sulu. Cinque giorni dopo, Toyoda gli comunicò di prepararsi. Più di ogni altra cosa, i giapponesi temevano le porte aerei americane. L'operazione A-Go mirava ad attirarli in un punto dove potessero essere attaccate e neutralizzate. Per sfruttare al meglio gli aerei decollati da basi a terra, quel punto doveva essere al sud-est delle Filippine. I giapponesi avevano un altro problema. Le loro scorte di carburante erano limitate. Pertanto dovevano attirare la flotta nemica in quest'area e attaccare sia le porta aerei che la forza da sbarco della Task Force. Dopo essersi sbarazzati delle porta aerei, avrebbero potuto condurre una classica battaglia navale. Gli aerei decollati da basi a terra giapponesi avrebbero giocato un ruolo fondamentale. Anche se una poderosa forza aerea era stata distaccata in Nuova Guinea all'inizio di giugno, su Saipan, Tinian e Guam stazionavano ancora 172 aerei e 268 su isole vicine. Altri 500 potevano essere inviati direttamente dal Giappone e dai territori occupati. La forza aerea dell'operazione A-Go avrebbe dovuto distruggere almeno un terzo delle porta aerei nemiche prima della battaglia decisiva, oltre a svolgere compiti di ricognizione prima e dopo lo scontro. Pura conoscenza dell'attività americana nel Pacifico centrale, per Ozawa non sarebbe stato facile attirare le porta aerei. Quando le truppe del generale McArthur attaccarono l'isola di Biak, vicino alle coste della Nuova Guinea, cercò di cogliere l'opportunità. Il 9 giugno suggerì a Toyoda di attirare la flotta americana nella zona prescelta con i rinforzi navali giapponesi e poi lanciare l'operazione A-Go. Il giorno dopo il vice ammiraglio Matome Ugaki fece rotta per Biak con due corazzate, un incrociatore leggero e sei cacciatorpediniere. Due giorni dopo fu richiamato, era scattata l'operazione A-Go. L'avvicinamento all'operazione Forager era stato graduale. Nell'ultima settimana di maggio le porta aeree americane avevano attaccato le isole Marcus e Wake a nord delle Marianne, il 3 giugno aerei decollati da basi a terra bombardarono le isole Caroline e Palau a sud. L'11 giugno la Task Force 58 iniziò i bombardamenti e i mitragliamenti a bassa quota sulle Marianne. Alle 13, 208 caccia e 8 bombardieri aerosiluranti attaccarono Saipan, Tinian e Guam. Quando facemmo l'incursione su Guam ci aspettavamo di trovare tutti gli aerei a terra, come se i piloti stessero mangiando o facendo il bagno. Ma non andò così, non c'era un aereo sulle piste, erano tutti decollati, i caccia erano sopra di noi e ci venivano addosso o da dietro o si lanciavano sulle nostre scie e il fuoco della contraerea era incredibilmente intenso. Perdemmo tre piloti centrati da proiettili da 5 pollici. Gli aerei esplosero in cielo, solo un pilota si salvò. Il fuoco da terra era tremendo. Poi quando i caccia zero ci furono addosso divenne una battaglia uno contro uno. Appena puntavo un aereo me ne ritrovavo addosso altri due. Mi liberavo e puntavo su un altro. Fu una bella lotta. Facemmo molte missioni su Guam. Le portaerei della Task Force lanciarono attacchi sulle tre isole per tutto il 12 giugno. Il giorno dopo, mentre due facevano rotta verso nord per attaccare Chichijima e Iwojima e tagliare le rotte verso sud, le altre due stringevano la morsa su Saipan e Tinian. Precedute da un intenso cannoneggiamento navale il 14 giugno e coperte all'alba del 15 giugno dal fuoco aereo e dalle corazzate, due divisioni di Marines sbarcarono sulla costa ovest di Saipan. Il fuoco di sbarramento aveva già convinto Ozawa a richiamare le unità di Ugaki. La flotta mobile lasciò Taui Taui il 13 giugno. Due giorni dopo, mentre sostava per rifornimenti nello stretto di Gimarras, Ozawa ricevette da Toyota l'ordine di attaccare nell'area delle Marianne e distruggere le forze di invasione americane. L'operazione Eigo entrava nella fase decisiva. Il giorno dopo, alle 16.50, Ozawa e Ugaki si riunirono ad est delle Filippine. Ora Ozawa aveva nove portaerei, di cui quattro leggere, cinque navi da guerra, 13 incrociatori e 28 caccia torpediniere. Le portaerei imbarcavano 430 aerei. 43 idrovolanti da ricognizione erano a bordo di corazzate e incrociatori. Un'armata imponente, ma inferiore alle forze americane. Inoltre, la manovra non era passata inosservata, come sperava Toyota. Il sottomarino Sea Horse aveva segnalato i movimenti verso nord di Ugaki. Un altro sottomarino, il Flying Fish, seguiva Ozawa. Ora Spruens sapeva che due squadre navali giapponesi erano salpate. L'invasione di Guam doveva essere rinviata. La mattina del 16 giugno, Spruens affidò al viceamiraglio Willis A. Lee sette corazzate, quattro portaerei pesanti e 13 caccia torpediniere, con la copertura aerea del Task Group 58-4. Avrebbe fatto da schermo al grosso della flotta americana. Idrovolanti dotati di impianti radar decollarono dalle Marshall, diretti alle piste nella parte ovest di Saipan, definitivamente conquistata il 17 giugno. Spruens non aveva intenzione di restare ad aspettare. La nostra aviazione spazzerà via le portaerei, quindi attaccheremo corazzate e incrociatori per renderli inoffensivi. Le navi americane avrebbero sostenuto gli attacchi aerei per costringere la flotta giapponese a cambiare rutta, quindi con i velivoli delle portaerei avrebbero dato la caccia ai superstiti. Senza informazioni precise sulla posizione del nemico, Spruens non poteva salpare verso ovest tra il 17 e il 18 giugno. Se i giapponesi gli fossero sfuggiti, l'invasione sarebbe stata in pericolo. Alle 3.45 del 18 giugno, il sottomarino Cavalla lo informò che una grossa flotta giapponese era stata avvistata la sera prima a 780 miglia ad ovest di Saipan, in navigazione verso ovest. Spruens calcolò che non sarebbe stata in posizione da minacciarlo prima del 19. Il 17 giugno, Otsawa aveva rifornito le sue unità. In serata riprese la rutta verso ovest, quando fu avvistato dal Cavalla. Aveva diviso le sue navi in tre forze. La forza A, composta da tre portaerei, la Taiho, la portabandiera di Otsawa, la Suikaku e la Shokaku con 207 aerei. La forza B, agli ordini del contramiraglio Yoshima, contava sulle due portaerei principali, Junio e Io, e sulla portaerei leggera, Ryoho, che insieme imbarcavano 135 velivoli. I due gruppi erano scortati da una corazzata, quattro incrociatori e 16 caccia torpediniere. La forza C era l'esca ed era agli ordini del viceammiraglio Curita. Comprendeva tre portaerei leggere con 88 aerei scortate da quattro corazzate, cinque incrociatori e otto caccia torpediniere. Le portaerei giapponesi erano di dimensioni ridotte. Le più grandi erano in media sulle 20.000 tonnellate e trasportavano circa 60 aerei. Quelle leggere stazzavano circa 10.000 tonnellate e imbarcavano tra i 40 e i 45 aerei, quindi molto più piccole di quelle americane. All'alba del 18 giugno nessuno dei comandanti conosceva l'esatta posizione dell'altro. Dalla segnalazione del cavalla erano passate sei ore. Otsawa aveva due lievi vantaggi. I suoi caccia Zeke e i bombardieri siluranti Jill potevano decollare dalle portaerei, attaccare gli americani in virtù del loro ampio raggio e raggiungere le basi giapponesi di Guam e Rota. Anche gli idrovolanti da ricognizione avevano un raggio più ampio di qualsiasi velivolo statunitense e potevano informare Otsawa sulla posizione del nemico. Gli americani avevano dato nomi in codice a tutti gli aerei giapponesi. Quello che chiamavano Zeke in effetti era un caccia-zero, per la precisione un Mitsubishi di tipo Zero Mark I. Fu impiegato durante l'attacco a Pearl Harbor. Aveva un cannone da 20 mm e due mitragliatrici da 7,7 e una velocità di 560 km orari. Il Jill era un aerosilurante Nakajima armato di un solo siluro e in grado di volare a 420 km orari. I ricognitori inviati dalle portaeree di Midsher all'alba del 18 giugno non avvistarono nulla. Nel pomeriggio furono i giapponesi a sfruttare la loro maggiore autonomia. Alle 15 e 14 un ricognitore avvistò alcune portaeree, due corazzate e un numero imprecisato di altre navi. Una nuova segnalazione alle 16, numerose portaeree e altre navi più a sud. La Task Force 58 era stata localizzata nonostante lo scudo navale. Alle 16 e 37 il sottoamiraglio Bayashi, comandante del gruppo delle portaeree della Forza C, era pronto a lanciare i suoi 67 aerei contro gli americani, ma Ozawa scelse la prudenza e ordinò di modificare la rutta per restare fuori dalla portata dei ricognitori. Il mattino dopo, il 19 giugno, intendeva attaccare e distruggere il nemico. Spruens, temendo di essere attirato troppo ad ovest di Saipan, aveva invertito la rutta dopo il tramonto. Al quartier generale della flotta del Pacifico a Pearl Harbor fu segnalato che alle 8 e 23 della sera erano state intercettate comunicazioni radionemiche verso la flotta di Ozawa, localizzata a 350 miglia ad ovest-sud-ovest della Task Force 58. Mitcher chiese l'autorizzazione di modificare la rutta per poter lanciare un attacco aereo all'alba, ma Spruens temeva che una consistente forza giapponese potesse sfuggire allo sbarramento e negò il suo assenso. Si fidava poco delle intercettazioni e se il messaggio captato dal sottomarino Stingray era vero, il nemico poteva essere già molto più vicino. Nelle stesse ore un idrovolante della marina americana aveva individuato con il radar due grandi gruppi navali nel mar delle Filippine, quasi certamente le forze A e B di Ozawa. Per un destino beffardo, Spruens, ricevette questa vitale informazione solo alle 9 del mattino del 19 giugno. I ricognitori inviati dalla Task Force 58 durante la notte e nelle prime ore dell'alba non avvistarono la flotta giapponese. Ozawa fu più fortunato. Alle 4 e 45 del mattino del 19 giugno, dalle navi di scorta della Forza C decollarono 16 idrovolanti in circa degli americani. Alle 7 e 30 uno avvistò il Task Group 58-1. Decollati alle 5 e 15, 13 aerosiluranti della Forza C raggiunsero i cacciatorpediniere di picchetto dello scudo navale di lì, ma 7 furono abbattuti dagli Hellcats prima di poter sparare un colpo. Il Kate era un aerosilurante Nakajima, il modello standard in dotazione alla marina giapponese durante la guerra del Pacifico. Imbarcava un siluro da 356 chili, ma poteva anche essere impiegato come bombardiere a bassa quota. Il Jake era un idrovolante impiegato come aerosilurante nel Pacifico. Poteva trasportare una bomba da 250 chili e un peso equivalente in carica di profondità. Aveva un raggio di 1200 miglia e una velocità di crociera di 326 chilometri orari. Aveva in dotazione un innovativo radar aria superficie. Otsawa era ormai in vista delle porta aeree nemiche, ma ignorava che le sue comunicazioni in codice erano state decifrate e che Mietcher era pronto ad accoglierlo. La disfatta giapponese era già cominciata. Mentre faceva decollare i suoi aerei, la Taiho, nave ammiraglia di Otsawa, fu colpita da un siluro del sottomarino Alba Cor. La porta aerei continuò la navigazione. L'equipaggio non si rese conto che aveva subito un colpo mortale. Dall'alba del 19 giugno, gli Hellcats della Task Force 58 avevano cominciato a pattugliare l'area circostante. Due bombardieri in picchiata giù di partiti da Guam furono intercettati alle 5.30. 20 minuti dopo toccò a 6 Zeke. Alle 6.30 i radar segnalarono attività aerea sull'isola, a circa 100 miglia di distanza. Alle 7.20 gli Hellcats raggiunsero la base di Orote, ma furono immediatamente attaccati da aerei giapponesi. Poco dopo, alle 8, una numerosa squadriglia aerea nemica fu segnalata in avvicinamento a Guam da sud-est. Erano i rinforzi inviati dalle isole Track e Yap. Facendo il punto della situazione, Mietcher concluse che avrebbero dovuto menare le mani contro aerei decollati da basi a terra e da portaeree. Ordinò che ognuno dei suoi tre task group a sud inviasse 12 Hellcats a presidiare Guam. Avrebbero affrontato 30 tra Zeke e Hams e 5 bombardieri. Nel frattempo le portaerei giapponesi avevano lanciato il primo di quattro grandi raid aerei della giornata. Alle 8.30, 16 caccia Zeke, 45 Zeke con carico di bombe e 8 aero siluranti Jill lasciarono la forza C. Un'ora e mezza dopo furono inquadrati dai radar delle corazzate dell'ammiraglio Lee ad una distanza di 150 miglia. Mietcher richiamò immediatamente gli Hellcats da Guam lasciandovi solo una piccola pattuglia e avvertì la Task Force 58 di tenersi pronta per lanciare tutti i suoi caccia. Alle 10.19 dette l'ordine esecutivo. Quattro minuti più tardi i primi caccia americani decollarono per intercettare quello che sarebbe stato ricordato come il raid numero 1. Il Grumman Hellcat era il caccia standard in dotazione alla flotta del Pacifico nel 1944. Montava 6 mitragliatrici da mezzo pollici, aveva una velocità di 605 km orari e un raggio superiore alle 1000 miglia. Poteva anche essere impiegato come caccia bombardiere, in tal caso aveva una capacità di carico massima di 9 quintali. Uno degli ammiragli lo descrisse come l'aereo che ci fece vincere la guerra. Gli aerei nemici erano ormai a 72 miglia. Prima di lanciare l'attacco erano saliti a quota 20.000 piedi, ma ciò diede il tempo ai difensori di attestarsi tra i 17 e i 23.000 per una reazione coordinata. Alle 10.36 Mischer segnalò a tutte le portaerei di tenere i caccia pronti per rispondere all'attacco. Anche gli aerei da sbarco, se era necessario. In quel preciso istante 25 bombardieri e 16 caccia giapponesi furono attaccati dagli Hellcats della Essex, che ne abbatterono 6 e dispersero gli altri. Gli aerei nemici erano ormai a 72 miglia. Prima di lanciare l'attacco erano saliti a quota 20.000 piedi. Ma ciò diede il tempo ai difensori di attestarsi tra i 17 e i 23.000 per una reazione coordinata. 25 bombardieri e 16 caccia giapponesi furono attaccati dagli Hellcats della Essex, che ne abbatterono 6 e dispersero gli altri. Ci stavamo dirigendo a Guam per cercare di tenere la posizione. Eravamo appena a metà strada quando ci comunicarono un Hey Rub, che significava che dovevamo invertire la rotta e tornare indietro. Mentre ritornavamo verso le nostre navi guardavo giù e ricordo che sul fianco destro a ore due vedi dei caccia giapponesi Keitz e Val, i più comuni sulle portaerei, che puntavano verso la task force. Li intercettamo appena cominciarono la picchiata. Mentre scendevo di quota mi ritrovai tra i caccia. L'attacco vero e proprio non era ancora cominciato, ma altri dei nostri avevano già cominciato a sparare e ad abbattere bombardieri e aerosiluranti. La confusione era totale. Me la sono vista brutta quella volta. I caccia, appena ti inquadravano, puntavano dritti contro di te, rompendo la formazione. E a quel punto diventava un duello uno contro uno. Alcuni aerei giapponesi riuscirono a rompere l'accerchiamento degli Hellcats e a puntare sugli obiettivi, ma si ritrovarono davanti una seconda linea difensiva. Solo tre o quattro superarono i picchetti di caccia torpediniere e attaccarono le corazzate. Alle 10.49 la prima bomba colpì la South Dakota, provocando danni superficiali. Nessun aereo raggiunse le portaerei. Il raid fu ufficialmente sospeso alle 10.57. I giapponesi avevano perso 42 dei 69 aerei. Il raid numero due fu lanciato dalla forza A di Ozawa alle 8.56. Comprendeva 53 bombardieri in picchiata giudi, 27 aerosiluranti e 48 caccia zig. Poco dopo il decollo, un pilota precipitò in mare e altri otto rientrarono per problemi ai motori. Mentre sorvolavano la forza C, due aerei furono abbattuti dal fuoco amico della propria artiglieria e altri otto gravemente danneggiati e costretti a rientrare. Alle 11.07 i rimanenti 109 velivoli furono captati dai radar americani a 115 miglia e intercettati a 60 miglia dagli Hellcats. Attaccando alle 11.39 i caccia americani abbatterono circa 70 aerei. I pochi che riuscirono a passare trovarono il fuoco della contraerea navale di lì e di altri 42 Hellcats. A mezzogiorno sei giudi attaccarono il Task Group 58-2. Uno esplose proprio sopra la Wasp, facendo diverse vittime, mentre la Bunker Hill fu leggermente danneggiata. Quattro dei bombardieri in picchiata furono abbattuti. Uno riparò a rota, l'altro a guambo. Contemporaneamente una piccola squadriglia di Jill attaccava il Task Group 58-3. Perirono tutti senza provocare alcun danno. Il bilancio del raid numero due era disastroso. I giapponesi avevano perso 98 dei 129 aerei decollati. Ma erano ben lontani dall'arrendersi. Per il raid numero 3, 25 caccia-bombardieri Zieg, 7 bombardieri in picchiata Jill furono inviati dalla Forza B tra le 10 e le 10 e 15. Avendo ricevuto coordinate imprecise, puntarono troppo a nord e 27 ritornarono senza aver avvistato nulla. Agli altri fu comunicata la rotta precisa, ma alle 12 e 55 furono individuati dai radar a 100 miglia dalle corazzate. 40 Hellcats li intercettarono abbattendone 7. Pochi riuscirono ad attaccare il Task Group 58-4, ma non centrarono alcun bersaglio e si allontanarono. Dei 47 aerei del raid numero 3 ne rientrarono ben 40. Il caccia giaplonese Zerolo era un aereo leggerissimo e molto agile. Aveva una grossa potenza di fuoco, ma praticamente nessuna protezione per il pilota né per i serbatoi. Era una bomba d'orologeria che poteva esplodere in qualsiasi momento. Ricordo che solo una volta ho attaccato degli Zero partendo da una quota superiore. Erano sempre sopra, volavano contro sole e quasi non li vedevano. Ci attaccavano all'improvviso. Te ne accorgevi solo quando sentivi fischiare le pallottole. Non potevi ingaggiare un duello con uno Zero. La sua manovrabilità era troppo superiore. Affrontarlo era l'errore peggiore. Prima o poi te lo ritrovavi nella coda. Non potevi farcela contro un pilota esperto. L'unica tattica era l'attacco diretto, al massimo una rapida virata e poi dritto sul bersaglio. Ma se nel frattempo un altro caccia ti aveva puntato, rischiavi di non farcela. Il raid numero 4, l'ultimo tentativo giapponese, fu lanciato tra le 11 e le 11.30. Comprendeva 30 Zik, 8 Judy e 27 bombardieri in picchiata Val, 10 caccia bombardieri Zik e 6 aerosiluranti Jill decollati dalle porta aerei della Forza B e da una della Forza A. Questa volta gli aerei si spinsero troppo a sud, mancando il bersaglio. Alcuni puntarono su rota e furono individuati dai radar a 45 miglia dal Task Group 58-2. Cinque furono abbattuti. Gli Hellcats colpirono in punti diversi. Nove gli abbattimenti. 49 degli aerei impegnati nel raid numero 4 puntarono su Guam dopo aver scaricato le bombe in mare. Poco dopo, alle 14.49, furono inquadrati dai radar della Task Force 58. 12 Hellcats decollarono al loro inseguimento. Raggiunta Guam, trovarono i mezzi nemici che sorvolavano la pista di Orote in attesa di atterrare. A questo punto sopraggiunsero altri 15 Hellcats. 30 dei 49 aerei giapponesi furono abbattuti. Erano stati completamente tagliati i collegamenti tra le isole controllate dai giapponesi, soprattutto Guam. Le squadriglie americane attaccavano ad ondate. Per liberare i ponti per i caccia in vista degli imminenti attacchi nemici, le portaerei della Task Force 58 avevano fatto decollare tutti i bombardieri. I piloti non rimasero con le mani in mano. Alle 10.40, 24 aerei decollati dalla Hornet attaccarono Guam. Alle 13, i bombardieri della Lexington distrussero 30 aerei sulle piste. Nel pomeriggio, protetti dai caccia, i bombardieri colpirono ancora mentre gli Hellcats continuarono a pattugliare i cieli sopra l'isola fino alle 18.45. Parlando con dei piloti giapponesi dopo la guerra, scoprimmo che più di tutto temevano i mitragliamenti degli Hellcat sulle truppe di terra. Potete immaginare cosa si provava in una trincea o nascosti sotto una palma con quattro caccia che tempestavano di pallottole calibro 12.50. Devastante. Le incursioni su Guam non furono una passeggiata. Sei Hellcats e un bombardiere andarono perduti, quattro colpiti dalla contraerea. Nel corso dei quattro raid giapponesi subirono danni minimi le portaerei Wasp e Bunker Hill e le corazzate Indiana e South Dakota. In tutto i morti furono 31. A mezzogiorno del 19 giugno la flotta americana era ormai fuori pericolo. Il comandante Paul D. Buey descrisse la carneficina provocata dagli Hellcats facile come una caccia al tacchino. Era nata la leggenda del grande tiro al tacchino delle Marianne. Gli attacchi aerei di Otsawa erano stati un clamoroso fallimento. 243 dei 373 aerei decollati non erano rientrati. Almeno 50 dei 60 idrovolanti da ricognizione erano stati abbattuti. Le perdite americane si limitavano a 29 aerei e 27 piloti dopo il recupero di alcuni dispersi. Il 19 giugno Otsawa subì altri gravissimi rovesci. A mezzogiorno e venti la porta aerei Shokaku fu silurata dal sottomarino Cavalla. Alle 15 affondò dopo l'esplosione del deposito munizioni. Alle 15 e 32 danneggiata per un precedente siluramento la Tai Ho subì un'analoga deflagrazione e affondò alle 17 e 15. Otsawa trasferì la sua bandiera prima sul cacciatorpediniere Wakatsuki poi alle 17 e 6 sull'incrociatore Aguro. Si era salvato ma due delle sue nove porta aerei erano perdute. Otsawa fu ingannato dai resoconti dei suoi piloti che parlavano di numerosi Hellcats abbattuti e di almeno sei porta aerei in fiamme. La radio di Tokyo annunciò l'affondamento di ben 11 porta aerei americane. Ignaro che molti dei suoi aerei non erano riusciti a raggiungere le basi a terra il 20 giugno Otsawa si organizzò per rifornirsi di carburante e recuperare i velivoli che credeva al sicuro a Guam e Rota. Ma lo sbarramento navale di lì era solo 25 miglia. Alle 20 del 19 giugno tre dei task group virarono verso ovest a 23 nodi per inseguire Otsawa. Il task group 58-4 rimase a coprire le Marianne ancora occupate dai giapponesi. Durante la notte gli aerei americani colpirono Tinyan e bombardarono nuovamente Guam. Micher ricordava l'ammonimento di Spruens assicurare una protezione adeguata a Saipan. Ma ora che conosceva la rotta del nemico il comandante della quinta flotta fremeva per lanciare l'attacco. Eppure non sarebbe stato facile scovare Otsawa. In teoria la task force 58 avrebbe dovuto raggiungerlo nella notte tra il 19 e il 20 giugno dal momento che la flotta mobile procedeva a soli 18 nodi. Ma due ore prima che gli americani iniziassero l'inseguimento Otsawa modificò la rotta. Così eluse i ricognitori ad ampio raggio Liberator decollati dalle isole dell'ammiragliato gli idrovolanti che pattugliavano Saipan e anche i sottomarini. Mantenendo il silenzio radio per tutto il 20 giugno il comandante giapponese riuscì a far perdere le tracce. Dalle 5 e 30 inviò staffette di idrovolanti per localizzare il nemico. Alle 7 e 13 del mattino avvistarono due ricognitori americani ma nessuna nave. Decise di continuare le operazioni di rifornimento ma i sistemi di comunicazione dell'attuale ammiraglia la Aguro erano scadenti e le manovre proseguirono fino a mezzogiorno. Alle 13 Otsawa si trasferì nuovamente sulla porta aerei Zuikako. Lì fu informato delle reali dimensioni delle loro perdite. Tuttavia era ancora convinto di avere inflitto una dura lezione agli americani ed era determinato ad ingaggiare battaglia il 21 giugno. Dei messaggi da Tinian lo portarono all'errata conclusione che fossero giunti rinforzi aerei da Iwo Jima e TRAC e Toyota non aveva sospeso la missione. Improvvisamente ogni sua sicurezza svanì. Alle 4 e 15 l'incrociatore a Tago intercettò una trasmissione radioamericana. Erano stati avvistati. Entro mezz'ora Otsawa sospese rifornimenti, cambiò rutta e si allontanò a 24 nodi di velocità sperando di distanziare gli inseguitori. Per tutta la mattina e fino al primo pomeriggio gli americani avevano setacciato l'intera zona. Alle 15.38 un Avenger avvistò le navi giapponesi 275 miglia a nord-est della Task Force 58 ma il messaggio arrivò incompleto. Solo alle 16.05 l'esatta posizione dei tre gruppi nemici fu comunicata alla flotta americana. Fu questa la trasmissione intercettata dalla Tago. Era ormai il tramonto quando gli americani arrivarono alla distanza per un attacco con le porta aerei. Mitchell ordinò lo stesso di far decollare le squadriglie. Il comandante della quinta flotta fu informato che le porta aerei erano pronte. Mitchell sapeva di avere un solo colpo in canna. Alle 16.21 la Task Force 58 virò a favore di vento. Nel giro di 10 minuti le sue sette porta aerei lanciarono 77 bombardieri in picchiata, 54 aero siluranti, 85 caccia di scorta e tutti gli Alcats e gli Hell Divers con serbatoi supplementari. I primi piloti americani erano in volo già da 10 minuti quando fu comunicata la nuova posizione del nemico. Otsawa si era allontanato di 60 miglia. Mitchell dovete abbandonare l'idea di un secondo attacco. Gli stessi piloti cominciavano a dubitare di poter ritornare alle loro porta aerei. L'incognita era il carburante. Sapevamo che rischiavamo di non tornare ma non ci aspettavamo quella sorpresa. eravamo già in posizione fly one quella in cui il segnalatore si appresta a lanciare il decollo dal ponte ed ecco che l'ha detto alle comunicazioni quello con le cuffie prende la lavagna e l'alza contro il vento. C'è scritto nuova posizione nemico. La rotta era cambiata di poco ma la distanza 305 miglia. a quel punto tutti sapevamo che non ce l'avremmo fatta a tornare. I caccia avrebbero avuto qualche possibilità gli aerosiluranti nessuna i bombardieri in picchiata una via di mezzo. Questo pensavamo quando decollammo. Il sole era ormai basso all'orizzonte quando alle 18.40 avvistarono i giapponesi. Sei navi cisterna e sei caccia torpediniere navigavano in scia ai tre gruppi navali che procedevano allineati e a ranghi serrati per garantire il massimo fuoco antiaereo dopo aver perso il grosso della loro copertura. Gli aerei della Hornet della Yorktown e della Batan puntarono la forza A. La nuova miraglia di Otsawa la Tsui Kaku fu danneggiata così gravemente che rischiò di affondare. Le squadriglie decollate dalla Bunker Hill dalla Monterey e dalla Cabot si concentrarono sulla forza C. La portaerei C Yoda la corazzata Aruna e l'incrociatore pesante Maya furono colpiti. Nello stesso momento gli aerei della Wasp si scatenarono sulle navi cisterna. Due furono abbandonate dall'equipaggio. Tutte le portaerei della forza B furono colpite. La Ryuho fu centrata da una sola bomba e non riportò grossi danni. Anche la Junio rimase operativa pur colpita da due ordigni a mezza nave. Al contrario la Io fu prima centrata da due siluri e degli Avengers poi colpita da bombardieri in picchiata. Affondò due ore dopo. Per i piloti americani si preparava un rischioso volo di ritorno con i serbatoi quasi vuoti. Si tornava a casa ma era buio. Avevamo coperto un terzo della distanza quando gli aerosiluranti cominciarono a lasciarci non solo quelli della mia nave ma anche di altri portaerei. Avevano finito il carburante e tentavano di ammarare. Sparivano uno dopo l'altro. La situazione era critica. I primi piloti raggiunsero le portaerei alle 20.45. Nel tentativo di guidarli Mitchell aveva fatto accendere tutti i fari sulle navi. Un azzardo se ci fossero stati sottomarini in zona. Furono lanciati razzi di segnalazione. I cacciatorpediniere puntarono le foto elettriche in mare per individuare uomini e canotti. Nonostante tutti gli sforzi ci furono diversi incidenti. Solo sulla Lexington cinque aerei si schiantarono sul ponte. Era isteria allo stato puro. Isteria allo stato puro. Si era diffuso il panico. Nessuno sapeva dove fosse la sua nave. Tutti eravamo a corto di carburante. Quattro piloti rimasero a secco proprio in vista della nave. Due ammararono lungo la fiancata. Gli altri due tentarono l'atterraggio. Atterravamo su qualsiasi tipo di nave. incrociatori caccia torpediniere qualsiasi cosa che avesse una luce. L'ordine di accendere le luci in partito dal Nature salvò molte vite. L'ultimo aereo atterrò alle 22.52. Oltre ai 20 aerei abbattuti dalla flotta giapponese 17 Hellcats 35 Helldivers e 28 Avengers si persero durante il volo di ritorno. alle 19.12 del 20 giugno mentre i suoi aerei si allontanavano dalla flotta di Otsawa Mitcher propose di inseguire il nemico con le corazzate di Lee. Spruance non voleva dividere la Task Force 58 solo all'alba ordinò di procedere alla massima velocità possibile sulla scia di Otsawa. Dopo che gli aerei americani furono rientrati dall'attacco al tramonto del 20 giugno fu proposto che le corazzate dell'ammiraglio Lee partissero immediatamente all'inseguimento della flotta giapponese. Successivamente si apprese che era a circa 570 miglia da Okinawa. L'ammiraglio Spruance si oppose voleva mantenere l'unità tattica della Task Force durante la notte. Temeva che le corazzate dell'ammiraglio Lee si sarebbero ritrovate senza copertura aerea. e anche se avessero raggiunto i giapponesi non era così sicuro che sarebbero riusciti a rallentarli in attesa della Task Force 58. La sua cautela si rivelò fondata. Se le corazzate di Lee fossero arrivate a distanza di tiro dalla flotta nemica sarebbero state indifese contro gli aerei giapponesi. Spruance ignorava che due delle loro portaerei erano affondate ma quelle superstiti sarebbero state più che sufficienti. Spruance fu incoraggiato dal rapporto di un idrovolante da ricognizione. All'1.30 del 21 giugno le navi di Otsawa lasciavano una scia di carburante. Gli ricognitori americani seguivano i giapponesi ma alle 7.43 il nemico era ormai lontano 360.000. Il grosso della flotta nemica era fuori portata. Spruance decise di concentrarsi sulle navi danneggiate che potevano essere rimaste attardate. Per tutto il 21 giugno la Task Force 58 avanzò verso nord mentre i ricognitori perlustravano l'area in cerca di vascelli nemici. Alle 20.30 Spruance sospese l'inseguimento. Ma in pratica la battaglia del Mar delle Filippine era terminata la sera del 20 giugno ed era stata decisa dalla caccia al tacchino del giorno prima. Per i giapponesi fu una sconfitta fatale. Gli sbarchi americani sulle Marianne non erano stati arrestati e presto il martellamento dei bombardieri B-29 decollati dalle basi nell'arcipelago sarebbe diventato continuo. la sera del 21 giugno Otsawa presentò le dimissioni togliò dalle respinse rimase al comando della flotta mobile che raggiunse Okinawa il 22 giugno. Nei due giorni di battaglia i giapponesi non avevano affondato né danneggiato seriamente nessuna nave americana. Otsawa si ritrovava con soli 35 aerei operativi. Più di 100 velivoli giapponesi erano stati distrutti sulle Marianne e su altri territori occupati. Contando anche quelli ammarati o precipitati dopo la missione del 20 giugno gli americani avevano perso 130 aerei. Il grande tiro al tacchino delle Marianne spianò la strada la vittoria sul Giappone. Fu una tappa decisiva per gli Stati Uniti. di Giappone. Grazie a tutti.